Volevo chiedere scusa per un'espressione che mi è uscita un po' infelice in una trasmissione televisiva. Ha detto così in un video Pierfrancesco Maiorino, candidato del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lombardia, che è ospite della TV Lombarda, ha detto che la Lombardia non è come la Calabria, è una regione con grandi potenzialità, ha un sacco di gente che si dà da fare e tanto impegnata in progetti sociali e culturali. Un'affermazione a cui ha replicato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, che in un video sui social ha commentato. Ma questo è proprio scemo. Ha portato questo video, guardiamolo insieme, guardiamolo. La Regione Lombardia non è la Calabria, è una regione che ha grandi potenzialità, ha un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali, culturali, ma l'istituto... Ma questo è proprio scemo, rivediamolo. La Regione Lombardia non è la Calabria, è una regione che ha grandi potenzialità, ha un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali, culturali, ma l'istituto... Allora, questo si chiama, è un tale che si chiama Pierfrancesco Maiolino, Maiorino, è candidato alla Regione Lombardia, ma è soprattutto un cretino, perché non sa che anche la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità, tante possibilità e ha tante persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto. Meritano anche il suo rispetto. Lui non lo sa perché evidentemente è proprio un cretino. Quindi, Maiolino, come dicono i miei amici lombardi, lascia stare la politica, va a lavorare. E' sembrato, e questo perché l'ho detta male io, ha proseguito Maiolino, che mi potessi riferire ai cittadini calabresi, alla loro voglia di fare, ai loro talenti. Assolutamente. Agli amici calabresi è assicurato che non intendevo offendere la loro creatività. E forza, e anzi credo, che la Lombardia e la Calabria debbono collaborare ancora di più per buone politiche di sviluppo.